Hai deciso che è arrivato il momento di acquistare casa? Stai guardando un po' di annunci immobiliari e ti stai chiedendo quanto potrai investire? Acquistare casa è un passo importante ed è fondamentale capire quale sia il tuo budget. Per questo il primo passo è parlare con la tua banca di fiducia, o un private banker, o un mediatore creditizio, per avere in mano una proiezione di mutuo oppure una delibera di mutuo. Avere cioè in mano un impegno da parte della banca a erogare un mutuo fino all'importo stabilito, calcolato in base alla tua redditività, come stipendio o bilancio aziendale o investimenti. Questo ti permette non solo di scegliere più consapevolmente, ma anche di avere una strategia in più in fase di trattativa. Perché vincolare la proposta d'acquisto alla pratica di mutuo significa vincolare chi vende per 60 o 90 giorni. Mentre se hai in mano questo documento o se hai fatto la proiezione, puoi ridurre questi tempi anche a 30 giorni. E tu? Hai fatto un incontro in banca per valutare le tue potenzialità? Scrivimi nei commenti i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!